Quanto è importante questa vittoria per Siracusa? Tantissimo, è importante soprattutto per il morale, dovevamo dimostrare a noi stessi che non abbiamo paura di vincere, anzi, che qui a casa nostra è dura per tutti, non stiamo attraversando un buon momento alcuni acciacchi, alcuni problemi condizionali, ma stiamo lavorando tanto e questo lavoro lo dobbiamo mettere a frutto e il miglior modo per far fruttare il lavoro è vincere. Poi man mano il bel gioco arriverà, però adesso sono importanti i tre punti. Tanta novità nel roster, tu sei una di queste, oggi ha esordito anche Bruno Bursic che è un ulteriore rinforzo. Come vedi questa corsa senza nascondersi alle primissime posizioni della classifica del Gerone C dell'Albatro? È una corsa che si fa sabato dopo sabato perché l'ha dimostrato il Gaeta contro di noi fuori casa, non possiamo sottovalutare nessuno, nessuno si può permettere di prendere sotto gamba nessuna partita perché il pericolo è quello di lasciare per strada punti importanti che poi alla fine possono essere decisivi. Quindi sicuramente questa squadra è stata allestita senza ombra di dubbio per lottare ai vertici, però lo dobbiamo dimostrare sempre ogni sabato. Si deve iniziare da lunedì in allenamento, non mollare mai, stare sempre sul pezzo perché poi alla fine sono frasi fatte, ma è vero perché il lavoro paga. È stata una partita equilibratissima, poi il crocevia qual è stato secondo te? Il crocevia è stata la differenza tra le difese secondo me perché non abbiamo retto l'impatto con il loro attacco. Diciamo che i due attacchi si sono equivalzi per tutta la partita, dopo in queste partite in 3-4 minuti decide l'andare del match, quindi abbiamo preso un piccolo break e non siamo riusciti a controbreccare fino alla fine, quindi abbiamo finito sotto di 4. Come prosegue il campionato del Fondi? Adesso e da cosa ripartite in allenamento lunedì? Ripartiamo da quello di buono che abbiamo fatto fino adesso, da le due trasferte che anche se abbiamo perso abbiamo messo carattere in campo e forza fisica e ripartiamo quindi dalla prossima subito in casa contro il Fasano al meglio e cercando di fare meglio di quanto abbiamo fatto fino adesso.